Buongiorno a tutti. Sono Domenico dall'Italia, non so se vi ricordate di me. Ho eseguito il trappianto dei capelli presso la clinica della dottoressa Yoko Selen il 29 ottobre dell'anno scorso. I primi mesi sono stati davvero un po' deprimenti, vi dico la verità, perché forse ho avuto un processo di ricrescita molto lento, come mi avevano già avvisato ognuno ai suoi tempi. Volevo dimostrare la mia situazione dopo sette mesi, che è questa. Come potete vedere, il processo di ricrescita è stato dato per dodici mesi, quindi spero adesso in uno spessimento dei capelli e un miglioramento definitivo. Questa è la zona donatrice, non so se riuscite a vedere, non si vede praticamente niente. Volevo ringraziare tutti i coordinatori che hanno avuto pazienza in questi mesi e anche chi ha fatto il trappianto con me, che è stato molto vicino, molto disponibile. Grazie a tutti, se devo dare un mio consiglio, direi veramente a chiunque di fare questo trappianto e perché no presso proprio la clinica della dottoressa Selen, visto che io mi sono trovato benissimo. Vi saluto, grazie. Grazie a tutti.